si stava chiedendo se in quel periodo in cui eravate a carimate e quando fabrizio ha conosciuto mauro pagani che era a carimate ma lo conosceva già avevano anche sul disco di bubola mauro però si sono trovati hanno chiacchierato è cominciata più o meno da lì l'avventura del disco successivo no è cominciato alla fine del tour direi più nel senso più verso la fine del tour che è durato insomma un'ottantina di date in un anno e siamo stati fermi anche sei mesi insomma cioè quindi erano periodi intensive con il lunghissimo tour 80 81 che è partito subito perché il disco è uscito abbiamo finito a luglio abbiamo finito i missaggi ai primi di luglio forse la prima settimana è stato stampando stampato il 20 qualcosa del genere il primo il primo di agosto mi ha dato lui la copia di quello di merano della presentazione quindi era già fatto e non mi ricordo l'otto agosto no la prima data del tour comunque era 18 forse 18 agosto quindi eravamo già a fare le prove per per il tour comunque chiaramente si trovava con mauro si trovava benissimo come come con tutti dove l'avete fatte le prove del tour ti ricordi nello studio della ricordi quello di ripamonti cioè quello che era un avevo un altro nome prima e non mi ricordo fonorama 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 eh forse fonorama forse qualcosa del genere sì e io l'ho conosciuto come tu hai fatto anche il direttore musicale del tour sì 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 aranciamenti direttore musicale sì 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 è e c'era è stato un tour di grande richiamo c'era molta gente qualcosa è andato tantissimo no no il tour è stato bellissimo sempre strappieno sempre bello ci sarebbe cioè io non so quanto tempo hai tu ma ci sarebbe raccontare 80 concerti ci succedeva sempre qualcosa poi ci facevamo gli scherzi e poi c'è tutto il lato umano anche lato musicale le prove alle prove per esempio le prove divertenti il concetto di ecco il concetto di creuse de ma diciamo così e questo l'ho già detto in un'altra intervista non mi ricordo su quale libro uno dei migliaia che mi mi chiamano a intervistare ma io mi ricordo bene che eh alle prove Fabrizio con Tony Soranno perché alcuni di questi musicisti venivano dalla tradizione di crociere musica da crociere conoscevano bene il repertorio l'orchestra da ballo certo e Fabrizio conosceva queste robe qua aveva fatto lui nel suo piccolo un po' di cose così e passavamo il tempo a cazzeggiare con queste robe qua era troppo divertente e lui a un certo punto ha detto ma già durante le prove il figlio ha detto il prossimo disco voglio fare che siccome lui era amico di eh come si chiama il famoso crociere italiani costa costa esatto lui era amico di quelli lì ha detto guarda mi faccio dare cioè andiamo a fare una crociera di mare con questi qua facciamo il gruppo e facciamo noi tutti questi brani qua e io mi diverto come un bambino e ci divertiamo e era un progetto da ridere insomma però l'ha detto più volte avevo proprio questa idea qua facciamo e lo chiamo crociera crociera di mare poi da lì si è lavorato è diventato un'altra cosa eh però la la radice è quella era nata lì senti e poi le tue strata tua strada e quella di Fabrizio non si sono più incrociate su un disco io l'ho detto già più volte cioè no io con Fabrizio dopo ho lavorato ho fatto arranciamenti per la Dori per i tempi duri per il figlio e cose del genere ma in effetti lui quando beveva cioè sempre aveva tendeva sai ci sono quelli che bevono e diventano sempre più feliciotti quelli che bevono e cadono per terra e poi ci sono quelli che diventano un po tirano fuori il lato sarcastico sardonico tutto il resto e lui era uno che diventava un po cattivello divertente perché era talmente intelligente che le battute erano da scrivere tutti così però veramente insulti pesanti che colpivano la gente è un po violento così e quindi siccome quel periodo lì mi chiamavano tutti a fare le cose mi chiamavano continuamente finito il disco lui in effetti lo sai com'era lui faceva un disco ogni quattro anni esatto e quindi e quindi lui un po pretendeva che io che io stesse a disposizione tutto e io ascolta dammi un mensile certo io devo vivere infatti facevo i dischi mi chiamavano fatto la cinquetti laura sample cioè vuoi dire lavoro mi chiamavano scrivevo le cose facevo mi divertivo sempre sempre quasi sempre però a un certo punto mi ha chiamato enzo iannaci che già conoscevo e per me è il numero uno era un mito e quindi ho detto no no io io vado con questo qua e fabrizio devo dire non è che l'ho evitato totalmente nel senso che ogni tanto andavamo a mangiare insieme però come come trattava la gente sul lavoro e ti parlo sempre del periodo quando beveva forte così avevo visto troppe scene un po incresciose così e ho detto ma no c'è perché cioè io mi diverto a me a me non mi non mi toccava nel senso sai come dicono a roma ma rimbarza cioè io io ridevo cioè vedi come sono cioè lui se cercava di di prendermi di me e io diceva no no fabrizio stop ricordati che tu non sei un mito per me sei un bravo cantante quindi trovati un'altra vittima perché a me a me di queste queste uscite non mi interessa trovati uno che è in soggezione e trattalo come comunque se ne andava e questo tra l'altro era uno dei motivi uno dei motivi che eravamo amici perché lui per lui era prezioso questo fatto di avere di avere degli amici che non lo non lo trattavano come eravano sì esatto esatto ed era così cioè si poteva parlare di qualsiasi cosa anche le critiche anche anche mentre lavoravamo sul disco ogni tanto diceva no non cantarlo così però perché non provi non so quello che non ho che originalmente era tutto con la voce bassa una noia mortale e detto ma no cantalo su dio l'ottava c'è quando c'è il break di batteria vai su quello che è detto sono mica un cantante rocky ma provalo per fortuna c'era anche la dori che è però potrebbe potrebbe funzionare dai dai prova e lui all'inizio lo faceva malissimo perché era svogliato poi dopo un po ha cominciato a sentire che si poteva fare infatti tutti i dischi dopo sfrutta di più e che tra l'altro io sono convinto fino fino oggi che uno dei motivi che mi ha fatto cantare l'ave maria era anche la vendetta per per quella cosa che era pochi giorni prima non è possibile perché non aveva convocato il coro si vede che ce l'aveva già in mente da tempo però perché non mi ha detto niente dell'ave maria fino alla fine fino a questo non lo so c'è un altro l'ave maria è stata suonata sul funerale sì sì l'hanno messo sì sì io tra l'altro mia mi venivano i brividi e infatti dopo ho chiesto a pepe morcia che aveva un po organizzato la cosa detto ascolta ma non è che lui l'ha scritto c'era una decisione no no l'ho scelto io mi sembrava che stesse bene ah meno male sarebbe stato proprio una battosta pazzesco e era molto emozionante uscire dalla chiesa e sentire la mia voce a quel volume lì mamma mia e c'è anche su c'è anche su quella compilation l'unica la compilation sì lui era affezionatissimo per lui era veramente lo diceva da quanto ho capito anche in altre interviste era il brano di cui era più fiero perché aveva fatto perché poi lui alla fine era non era un mitomane di se stesso cioè lui era un regista cioè io proprio lo vedo quindi lì lì aveva aveva realizzato una roba così come l'aveva in mente evidentemente non nel senso che ha scritto nota per nota cioè non era qua lavorava lavorava un po alla kubrick così faceva impazzire la gente però alla fine aveva una visione di quello che voleva ripeti di qua ripeti di là finché non corrispondeva e avevo un orecchio ottimo suonava la chitarra decentemente non era un grande chitarrista però dell'intuizione belli ce li aveva ci trovava delle armonie a volte cioè sai è un vantaggio anche non non conoscere gli accordi le armonie in una certa maniera perché magari sbagli un po come john lennon cioè dislessico cioè che che sbagli accordo e invece i musicisti che sono diciamo che hanno studiato colti quello che vuoi tu comunque tendono a dire ah no è sbagliato e correggono alla banalità che sono stati originalità e invece i musicisti un po come lui come come lennon anche hendrix faceva queste cose qua magari sbagliava l'accordo e da lì nasceva un brano perché senti le possibilità che sei aperto alla sorpresa così e se meno rigido come come visione lui per esempio coracanece il passaggio armonico della chitarra ma quello è geniale è bellissimo non è il tipo proprio quello il tipo di cosa che viene a uno che non è proprio incanalato inquadrato inquadrato e a te dei tre sei degli otto pezzi del disco qual è quello che alla fine piace di più quello che oggi ti piace ancora di più a parte l'ave maria dai dei sette che rimangono e ma a me piacciono beh chiaramente mi piacciono le le cose cioè i miei introduzioni di pianoforte e ste robe qua c'è quali mi piacciono e boh su promonte mi piace come è un'atmosfera bellissima aspetta i titoli non è che lo ascolta l'idea di fare verdi pascoli e regge da dove è venuto fuori qual è venuto fuori è venuto fuori a tempio durante la prima lavorazione la preproduzione che questi hanno fatto sentire il brano e nel frattempo sia io che oscar che era lì con la fidanzata io con la mia che ascoltavamo io ascoltavo tantissimo reggae cioè caia queste robe qua i miei preferiti e quindi niente sembrava naturale perché il brano era banalotto così leggero così per renderlo ancora più spensierato sembrava una cosa giusta da fare allora ho cominciato a accennare a far sentire anche dei brani di marli e lui fabrizio e massimo erano erano contenti altro sì sì bello facciamo una roba del genere e quello è stato facilissimo l'abbiamo fatto in poco lì tra l'altro c'è lo scherzo che ha fatto ho fatto allele melotti che ho raccontato già un sacco di volte che che lele adesso come le le bandini come tutti quelli di una volta cioè suona jazz suona sono quello che vuoi suona con i big band e ma allora lui era considerato nel nel giro quello metronomico quello col tempo più perfetto ed ero uno restio a fare i gran brecche a soli e cose del genere c'era abbastanza creativo ma costretto perché la musica italiana richiedeva certi tipi di di sonorità e è un approccio di un certo tipo comunque lui era molto fiero aveva lavorato per anni la disco music goody music queste cose qua prima dell'avvento della batteria elettronica si facevano quei dischi lì con un metronomo un metronomo di solito e la voce del produttore che contava le misure io mi ricordo bene quel periodo lì cioè tu avevi in cuffia sentivi 42 43 break e lì era il segnale per fare un piccolo break e poi poi giù c'era l'istruzione mentre andava era colorare con i numeri insomma e lele aveva fatto anni di quelle produzione quindi era un metronomo era perfetto c'è la sua cassa è rullante non c'era da correggere niente e quindi abbiamo fatto lo scherzo per rendere ancora più più spensierato quel quel brano lì è il giorno che mi sa che l'abbiamo fatto per ultimo così come così per per divertirci ho detto ah lele allora questo l'arrangiamento è questo comincia con una solo di batteria e poi c'è una solo di batteria in mezzo ah no ma c'è lui aveva la vocina un po così mi ha detto no no io io gli assoli lo sai faccio cioè no fammi fa accompagnare no no ma fa parte dell'arrangiamento è proprio fa parte del brano il tuo ha solo è scritto e non volevo però alla fine gli abbiamo fatto fare ed è bellissimo è troppo divertente anche dal mio bene insomma vi siete anche divertiti dai guarda ci siamo divertiti tu non hai idea perché poi fabrizio c'è c'è questa questa visione adesso un po salito odore di santità esatto ma lui si divertì guarda alle prove a parte suonare le robe da da balera così i suoi i suoi cavalli di battaglia cioè i li ever browns come li chiamavo io cioè praticamente cambiava sempre il testo tipo dormi tranquillo con un crampo all'ano quindi ridevamo costantemente il disco nuovo no su quello ci concedevamo a farlo giusto ma gli altri cioè succedeva di tutto veramente non dal vivo ma durante le prove e quindi ci divertevamo ma anche dal vivo ci divertevamo ogni tanto abbiamo fatto degli scherzi l'ultimo concerto gli ho fatto uno scherzo ho messo ho messo ho messo un orologio casio dentro e sai le chitarre acustiche avevano il barco sberri rovolgere ho messo il timer del mio orologio casio e me lo sono studiato per bene la tempistica quando gli dava la chitarra l'ho messo dentro durante amico fragile per amico fragile che sapevo che tot secondi così c'era la parte un po di silenzio così ho messo sta cosa ed è stato perfetto lo scherzo perché c'è c'è e allora lang 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 e parte e sono tutti a correre come i matti i fonici e tutti quanti per capire che nessuno sospettava che veniva da dentro la chitarra quindi non era dentro da un'altra parte e questo glielo ho raccontato anni dopo perché all'epoca finiva in galera per una scherza sono bastardo comunque è finito di nuovo il tempo quindi direi che stavolta la chiudiamo perché se no poi io ti devo venire a trovare per pranzare e bere insieme ma questo non lo possiamo fare col computer di mezzo guarda che do il tuo numero di telefono il tuo indirizzo email al collezionista comincio con l'email per l'offerta poi 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 allora rivedere per rivedere il disco che così lui quando io sto scherzando ma figurati se sei do via sta cosa qua ma cioè da solo no tutta la collezione è questa qui c'è la dedica non c'è il disco vabbè vabbè non c'è il disco l'ho messo dentro un altro un altro beh questo magari non ce l'ha questa è la prima edizione con i testi dentro con tutto gli do il tuo indirizzo mail va bene ok poi se fai se fai l'affare mi inviti a pranzo sicuro ma io ti invito a pranzo comunque non c'è però se se vengo a pranzo senza senza che hai fatto l'affare facciamo alla romana a romana va bene va bene dai ciao mark grazie tante è sempre un piacere chiacchierare con te va bene dai alla prossima grazie a tutti